Per mangiare questa carbonara di fascia media, quella carbonara che trovi al ristorante qualunque a Roma o dintorni Siamo qua ai Castelli Romani, potevo portarvi da Ivo a Trastevere, potevo portarvi da Felice a Testaccio E invece Franza ha detto ma andiamo ai Castelli perché Franza è così E ha più senso per questo esperimento perché andiamo a un ristorante qualunque e vediamo che carbonara ci arriva Qua la carbonara costa 7 euro e mezzo, diciamo nei ristoranti quelli famosi per essere buoni paga un po' di più Carbonata arrivata? Carbonata Carbonara arrivata, la porzione mi sembra un pochino piccola, di solito te ne dà loro di più Non sono rigatoni perché oggi avevano solamente i paccheri, in compenso sono fatti in casa, sono freschi Assaggiamo uno Franza Anche io assaggio il ce l'hai Molto buono È estremamente una delle carbonari più buone che abbiamo mangiato, cioè non so come mai